Benvenuti ragazzi, vi trovate in questo prossimo video, oggi siamo qui trovati nella nuova stagione 3 di Fortnite e oggi vi andrò a elencare tutte le novità che sono arrivate con l'aggiornamento appunto della nuova stagione ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici ora andremo in partita così ve li elenco tutti ovviamente la prima grande novità è proprio la mappa un grandissimo cambiamento, il bioma di Mega City che è arrivato nella scorsa stagione è rimasto ed è invariato, non è cambiato nulla stessa cosa per quasi tutto il resto della mappa se non per il fatto che al centro mappa è cambiato tutto la zona del punto zero è cambiata totalmente, non c'è più l'albero dell'Araldo per esempio potrebbe essere magari nascosto fra le piante perché ce ne sono veramente tante e questo ancora non lo so è stata sostituita a Piazza Incudine e la montagna con la Torre di Pinnacoli che c'era dentro il ghiaccio non c'è più, c'è una nuova città quindi ovviamente questo è il grande cambiamento ma ci sono anche tante novità per esempio in questa città rovine Rubiconde o Rubiconde, vabbè non so come si pronunci credo Rubiconde si nasconde un segreto non so se si trova anche da altre parti fate conto che ho giocato tre orette oggi a sta season quindi veramente non so se riuscirò a elencarvi tutto in caso non vi elencherò delle cose ve le porterò ovviamente con altri video quindi attivate la campanella perché in questi giorni usciranno tantissimi video mi piace veramente tanto mi sta piacendo veramente molto questa stagione però adesso siamo qua per i segreti e le novità allora in questa città c'è una novità ma un segreto molto particolare delle novità sono anche questi frutti diciamo che tu li picconi ed esplodono possono aiutarvi molto perché dovrebbero andare contro i nemici se sono lì vicino a voi porca vacca scendiamo giù scappiamo eh però no 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 abbiamo qua quasi tutte le nuove armi abbiamo il nuovo pompa tamburo abbiamo il nuovo blaster chiamiamolo così il pompa tamburo non mi fa impazzire la metalletta da combattimento che è tornata sono contento perché era una metalletta che mi piaceva molto anche se mi dispiace per la metalletta doppio caricatore che era veramente bella secondo me dovevano lasciarla hanno messo poi hanno lasciato il mio pompa preferito esatto il godo questo cecchino termico che tu puoi attivare e disattivare il visore termico anche perché poi durante la season metteranno un oggetto che ti renderà invisibile quindi questo cecchino termico sarà molto utile e poi ragazzi questo coso veramente gigante di Optimus Prime che mamma mia allora non è OP perché cioè fa tanto male fa 110 però anche le strutture non è che faccia troppissimo ma se voi costruite un muro almeno muro di legno o pietra e loro vi sparano il colpo passa attraverso e vi becca cioè l'esplosione passa e vi becca quindi è un po' forte ma dovrebbe rimanere non dovrebbe rimanere per tutta la stagione dovrebbe rimanere fino al prossimo aggiornamento in teoria da quello che ho letto almeno così ho letto poi vedremo se effettivamente sarà così però almeno non è sgravo almeno questo perché se no parliamo delle novità un po' più tranquille ecco ci sono una serie di fiori nuovi per esempio questo che ti fa rimbalzare e ovviamente non prendere te da non da caduta ora sono sono sopra degli alberi che si può stare tranquillamente si può camminare e qua ci sono i nuovi grinding ok sono bellissimi il sound che c'è è bello non so perché ma è strabello è stato attenti che se cadete se siete sui grinding e vi lanciate non prendete danno vi faccio vedere non ve lo posso far vedere aspe ok vedete però attenti se vi lanciate dai alberi si questo è un altro fiore che se lanciate esplode e lascia la puzza ma poi tipo un sacco di roba non si può distruggere tutta sta roba qui non si può distruggere sono tornati i moto schifi ma questa qua con la corona dov'è che è io non capisco mi dirmi dai sopra no è impossibile vabbè rimarremo col dubbio probabilmente almeno che io non salgo qua sopra saliamo qui dai ok comunque tutto questo nuovo bioma è veramente bello ah è qua sopra no è despawnata no vabbè pazienza ora devo scendere assolutamente perché ci sono un sacco di altre cose da farvi vedere ecco qua tipo il pompa tamburo che è tornato sono un babbo mi fermo qui perché poi ritorniamo in quel templio lì allora eh però veramente non riesco a giocare cioè non è non è possibile ah qui c'è il fango che tu ti sporcherai proprio di fango e potrai scivolare molto più velocemente ti rimarrà attaccato per per un po' vedete c'è ancora il fango se scivolate funzionerà ora io ragazzi non so che cosa fare perché c'è troppa gente non riesco a giocare non riesco a giocare non è possibile che alle 9 del mattino questi stiano tragiardando ehm ma ok allora non so se spaccare qua me ne vado via andiamo via facciamo così ecco qua ci dovrebbe essere un boomerang perché non c'è più perché a me lo rubano giustamente e io adesso morirò no non voglio morire io però voglio andare via il pompa tamburo comunque non non mi fa impazzire sinceramente ho visto di pampe migliori qua dentro ragazzi c'è il punto 0 questo qua è un altro fiore che vi da shield o vita questo qui ragazzi è il punto 0 rinchiuso dentro una palla di pietra ehm wow non si sa perché sia finito lì dentro ma è qui dentro quindi oh eccolo qui il boomerang quindi rimarrà qua dentro per il momento tanto se avete visto i trailer la dottoressa Sloan è tornata allora ma il rumore che sento è un reboot impossibile siamo in singolo vabbè comunque eccolo qui il boomerang è un boomerang normale fa 60 di danni prende e torna indietro ehm lo userò molto perché mi piace anche se sinceramente l'avrei preferito cioè avrei preferito l'arma strana diciamo della stagione con anche del movement perché vi ho appena cioè vi ho detto anche prima che ragazzi è proprio movement in questa season 0 cioè pochissimo comunque ok è morto 1 vi faccio vedere se riesco il boomerang vedete fa 60 fa 60 60 allora purtroppo non ho non sono riuscito a prendere tutte le clip quindi adesso vi parlo di tutte le altre novità mettendovi una partita in sottofondo allora ci sono anche altri fucili nuovi per esempio il fucile d'assalto frittella che è il fucile con l'inventario il terzo fucile con l'inventario che non è questo gran fucile sinceramente a primo impatto questa stagione per estetica sicuramente è bella perché l'estetica cioè è figa il nuovo ambiente ci sta però è un po' meno diciamo della scorsa di stagione al primo impatto poi ovviamente vedremo cioè tutto il bioma nuovo ci sta il problema è un po' anche il movimento e il loot cosa che effettivamente non mi fa impazzire non c'è un'arma OP quindi non è che questa cosa mi faccia impazzire ora mi spiego meglio con arma OP allora i cavò e l'isola di loot lake che spawnano durante le partite sono rimasti allora i cavò spawnano sempre con i boss quelli della scorsa stagione identici quindi lo scagnozzo quello lì i tre scagnozzi in giacca a cravatta ok il boss con i due scagnozzelli dietro ok identici ma stavolta non spawneranno più in tre città fisse spawneranno in giro per la mappa e questa cosa qui a caso sempre in delle città ovviamente ma sparsi non si sa dove spawnano di preciso questa cosa si ci sta perché almeno tu non vai più in un luogo solo per quello però è un po' un po' brutto anche se vi dico che nei bunker ormai sono utili solamente per i slurp per gli slurp i succhini leggendari sono OP perché nel cavò troverete il fucile frittella l'assalto frittella mitico che vi voglio bene è un buon fucile ma non è sto granché invece come arma dell'isola fluttuante troverete il pump a tamburo quello che ho nell'inventario il nuovo pump a tamburo che era una nuova rintroduzione anche se già l'avevamo avuto mitico ma pure dal nome si chiama fucile a pompa a tamburo potenziato come nella scorsa stagione che c'era il fucile di slurpotenziato secondo me avrebbero dovuto fare che sparasse anche più velocemente invece no è lento uguale e si è meta questo pump soprattutto in no build ma non non spara veloce quindi non è che hai tutto sto dominio cioè fra quello e il marasma pure in no build che il marasma di solito fa schifo è meglio il marasma quindi sinceramente il loot di sta stagione il movement di sta stagione vi dico che è un po' così si poi hanno rimesso i raptor per carità hanno rimesso anche i cinghiali e i lupi anche le rane vabbè ci sono anche i vadetti delle vespe credo di avervi elencato quasi tutte le novità e ragazzi che dire a primo impatto si sembra bella anche se poi a fine season cambierà il giudizio perché ci sono un sacco di cose che devono aggiungere si sa già che dovrebbero tornare il pump a leva una pistola nuova a leva dovrebbe tornare anche un cecchino dovrebbe tornare le mk7 mamma mia il mio fucile da salto preferito almeno uno dei miei preferiti e quindi ci saranno tante altre novità sperando che mettino qualcosa anche col movement perché io me lo ricordo bene ne avevamo già parlato gli elicotteri se ne parla io ve l'avevo detto ve l'avevo detto si parlava degli elicotteri per questa stagione e ho detto sì ok gli elicotteri belli però siamo attenti che da sei mesi che si parla degli elicotteri non sono mai tornati infatti non ci sono vediamo se torneranno in game fatemi sapere se vi sta piacendo questa stagione queste sono più o meno tutte le novità della season nulla di troppo eclatante però secondo me ci sta può risultare una buona season a lungo andare però vedremo iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici noi ci bicchiamo in un prossimo video bella grazie a tutti